Dopo un lungo dibattito in merito all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino e alla situazione relativa all'infrastrutturazione, alle bonifiche, alla reindustrializzazione dell'area siderurgica, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione del Partito Democratico, con 22 voti a favore, 12 astensioni e un voto contrario, quello del portavoce dell'opposizione Marco Landi. La proposta di risoluzione impegna il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi tempestivamente, assieme alle istituzioni locali, le forze economiche e sociali del territorio, al fine di definire un progetto complessivo per il rilancio del territorio di Piombino, da sottoporre al Governo, che tenga insieme i temi della rigenerazione produttiva, del risanamento ambientale e dello sviluppo delle infrastrutture. L'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini, quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere una prospettiva nella logica e nella strategia del Governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino delle navi di risgassificazione tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del Governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno e poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno e naturalmente anche il completamento dello stesso porto che finora è stato realizzato a spese della Regione, né del Comune né dello Stato, della Regione Toscana che ci ha messo 150 milioni per realizzare quella banchina dove andai il ricassificatore e ancora ci sono opere per circa 120 milioni, c'è la seconda banchina e tutta una serie di opere complementari su cui nel momento in cui si utilizza quel porto il Governo sicuramente si farà carico di realizzarle. Quindi il mero morandum nel decalogo dei 10 punti è per me elemento fondamentale perché possa essere poi dato il via al lavoro di Snam. Il Presidente Gianni si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornia che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera che dovrebbe essere ricompensata a quanto ci riporta il Presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente, soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam ma ci deve dare il Governo e le istituzioni. Ha deciso tre mesi prima il Ministro Cingolani senza sentire nessuno né tantomeno il Sindaco di Piombino che quell'opera si farà e si farà lì. E Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera. Quindi è che oggi ci può tranquillizzare. Sul decalogo ancora peggio perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per 3 anni e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi. Sicuramente non con la città di Piombino perché il Sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti. Sicuramente non con la maggioranza che lo sostiene il Consiglio regionale. Abbiamo ascoltato l'intervento del Consigliere Anselmi che ha fatto 10 anni, il Sindaco di Piombino, che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi 10 punti. Quindi sono 10 compensazioni che Eugenio Gianni decide possano bastare la città di Piombino per prendersi in cambio probabilmente un danno ambientale perenne e sicuramente un danno al turismo molto forte, un danno alle itticulture molto forte che ha deciso non si sa dove e con chi. A noi questo atteggiamento lascia perplessi, lascia perplessi e preoccupati perché l'opera andrà avanti, benché dedica Gianni, l'opera porterà delle compensazioni non decise dalla città di Piombino, dai piombinesi ma decise da Gianni e questo modo di vedere è un modo di vedere che cozza un po' con le regole democratiche del gioco. Noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa, lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come regione toscana, come Italia, Piombino è stata scelta dal governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo, riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città, per la Toscana, non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro, ci può essere ricchezza, ci possono essere delle opportunità ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo, questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale, un intervento similare si è già sviluppato tra Piombino e Livorno, è evidente che siamo nella costa toscana, è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità, la grande attenzione di carattere ambientale, lo sviluppo turistico, le questioni della pesca, tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente, rispetto alla sicurezza del lavoro ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro, creare ricchezza, io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi, questa deve essere una scelta importante, quindi vantaggi per le imprese, vantaggi per i cittadini, opportunità per la Toscana, l'idea di andare avanti, di fare riforme, di fare investimenti, di andare e di credere in forme alternative di approvigionamento energetico deve essere una risposta di autorevolezza che dà forza al nostro governatore, a me fa piacere che Italia Viva sotto la mia firma abbia presentato una risoluzione importante condivisa anche dal collega Sguanci che dà sostegno al Presidente Gianni e come forza di maggioranza siamo stati la prima e l'unica a dare questo sostegno al Presidente Gianni. Noi siamo abituati alle novelle del Presidente Gianni, noi però guardiamo i documenti, per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni, un grande numero di tecnici hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti e non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città che diventerebbe non solo zona di interdizione perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno si crea una zona di interdizione molto vasta e non riesco a capire come faccia a eludere lui queste zone di sicurezza. Tra l'altro se anche le elude il Governo nazionale ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere luse, quindi questa è una cosa inconcepibile, assolutamente da non fare, la città di Piombino ha già pagato in termini ambientali un prezzo altissimo, stiamo bloccando non solo lo sviluppo dell'economico della città di Piombino che attende le bonifiche da decenni ma mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia che se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice creerebbe una devastazione di proporzioni epocali. Ecco io come non si faccia a considerare tutto questo lo trovo un enigma. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Fratelli d'Italia ed emendata dal Partito Democratico che esprime contrarietà rispetto alla decisione di Toscana Aeroporti che dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche per far fronte all'emergenza pandemica si legge nella mozione ha deciso di corrispondere 7 milioni di euro di dividendi ai propri soci. Il Toscana Aeroporti ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono mille dipendenti se ne mantengono mille al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto supporto summer perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto invece Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling che è un rammo della stessa società quindi ha fatto tutto il controllo di quello che sarà impegnata a fare. Se ciò fosse vero e risultasse vero deve restituire 10 milioni di toscani alla regione toscana che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in consiglio regionale anche sui dividendi perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili. Siamo felici che la nostra mozione di cui sono primo firmatario che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti che si è divisa gli utili ovvero soldi che gli avevamo dati come regione toscana sia stata votata l'unanimità da tutto il consiglio regionale. Di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più di 3 milioni. Non abbiamo chiara la situazione occupazionale. Abbiamo denunciato che ogni anno Toscana Aeroporti assume i dipendenti stagionali. Quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali. Ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato purtroppo questo patto non è stato rispettato. Siamo finiti su un giornale inglese, un tabloid inglese, ma non perché si parla di nuovi numeri e si dice che finalmente la Toscana riparte, ma perché abbiamo tenuto una serie di cittadini e una serie di visitatori della nostra Toscana e rinchiusi per ore vicino ad un gate perché praticamente non si sapeva se un volo partiva oppure no. Questa non è l'immagine della Toscana che noi vogliamo, questa non è l'immagine che i Toscani meritano e soprattutto dopo un contributo di 10 milioni credo che gli investimenti di Toscana Aeroporti debbano essere altri rispetto a no personale e a chiusura di alcuni servizi. Ma è evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare per una regione come la Toscana. La fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo, lo stiamo vedendo in queste settimane, in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture, penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Nel momento in cui nel 2014 si è scelto di vendere le quote di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora per regione toscana ovvero il sistema aeroportuale oggi come dire da socio di minoranza è chiaro che il peso del privato e quindi in questo caso delle corporazioni america naturalmente si fa sentire quindi noi abbiamo sì sovvenzionato ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati. Questo è un aspetto che secondo noi era meritevole di attenzione anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico quindi come Consiglio regionale abbiamo dato delle chiare indicazioni in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente al soggetto privato il quale non dimentichiamoci ha degli impegni precisi sul fronte investimenti. La nascita del sistema aeroportuale integrato quindi con Toscana Aeroporti che vede insieme Pisa e Firenze nell'ambito di un complesso sviluppo che non solo prevede interventi sulla Pisa di Peretola ma anche interventi che già all'epoca erano previsti sullo scalo di Pisa questo credo che oggi debba essere la mission principale del socio pubblico quindi spendersi in modo particolare sugli investimenti oltre che cercare di dire la propria dentro un CDA nel quale però naturalmente il nostro ruolo rimane molto marginale. Avevamo provato ad aprire una riflessione su questo quindi se ci fosse eventualmente la volontà di Regione Toscana in qualche modo di ripensare a questo suo ruolo pubblico magari attraverso un aumento della propria partecipazione societaria non abbiamo trovato un'apertura io credo invece che nel complesso della revisione del pacchetto delle società partecipate si debba invece fare un'attenta valutazione di quelli che oggi sono settori strategici sui quali si vuole puntare e che possono anche rendere in termini di utili e quelli che invece oggi appaiono settori in cui francamente non vediamo altra strada che la dismissione. In seguito al successo delle iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni finanziate con 2 milioni di euro, il Consiglio regionale ha deciso di prevedere un ulteriore sostegno economico pari a 500.000 euro per rispondere alle tante domande di adesione. La proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa che andrà a modificare la norma approvata lo scorso 26 gennaio ha ottenuto 24 voti favorevoli e 3 astensioni tra i progetti promossi dai comuni, arte di strada, valorizzazione di aree a verde pubblico, realizzazione di parchi giochi inclusivi per bambini con disabilità. Noi abbiamo lavorato all'assestamento di bilancio con un obiettivo, cercare di dare le risorse, a mettere sempre a disposizione dei più giovani, di chi ha sofferto di più in questo periodo, abbiamo visto che la legge 3 dello scorso anno è stata molto apprezzata dai comuni, tante richieste, tante partecipazioni e abbiamo deciso di finanziarla ancora di più per 500.000 euro, la street art, i parchi giochi inclusivi, i centri di aggregazione giovanile con l'obiettivo anche in questo caso di offrire ai cittadini e ai ragazzi più giovani la possibilità di percorrere e intraprendere queste iniziative che secondo me stanno avendo un grande successo. Quindi sono contento che anche questa legge sia stata votata praticamente all'unanimità del Consiglio. Direi rifinanziamento di tutta la legge regionale numero 3 del 2022, Rigenerazione Toscana, la quale è stata il frutto di un lavoro di squadra fatto da tutto l'ufficio di Presidenza, maggioranza e minoranza che sono riusciti a proporre delle offerte ai comuni così significativi con questo bando che sono stati numerosi i comuni toscani che hanno aderito al bando e sono circa 190 ed è per questo che oggi siamo andati a rifinanziare con ulteriori 500.000 euro proprio Rigenerazione Toscana. Sono soddisfatto perché con il lavoro di squadra, il lavoro serio possiamo fare il bene dei toscani attraverso i comuni e anche dei nostri giovani. La regione conferma una scelta che è lungimirante, un'intuizione che io in primis ho portato in ufficio di Presidenza che il Presidente Mazzeo ha condiviso così come i colleghi che ha visto una risposta straordinaria dei comuni toscani. Sono praticamente quasi 200 comuni che hanno risposto con iniziative che vedono i ragazzi, i giovani coprotagonisti delle loro stesse iniziative. Era un'occasione di ripartenza, una forma di aggregazione, di inclusività sociale e i ragazzi si sono dimostrati pronti a rispondere a questo che è stato forse il bando maggiormente partecipato della storia della regione toscana e quindi per me era doveroso e scontato mettere altre risorse in questo bando per consentire di dare una risposta positiva a tutte quelle richieste che sono arrivate in queste settimane. Grazie. 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 Grazie.